Oggi facciamo il punto sull'alimentazione degli uccellini domestici. È molto molto importante fornire ai nostri amici un'alimentazione il più possibile completa, bilanciata e specifica. Tito è un inseparabile e proviene dall'Africa. Quindi Tito ha bisogno non soltanto di tutti i semi che possiamo trovare qui ma anche di sostanze come frutta o foglioline o sostanze vegetali tipiche della sua nazione di provenienza. Vitacraft propone un basso assortimento di alimenti completi per canarini, cocorite, parrocchetti, inseparabili e non sono soltanto delle semplici miscele di semi ma hanno anche delle essenze, delle verdure o della frutta specifica per i diversi uccellini tipica dei loro paesi d'origine. I prodotti sono tutti bilanciati da un punto di vista vitaminico, di oligoelementi e minerale. Questo da garantire un sistema immunitario efficiente, un piumaggio sano e ossa forti. Vitacraft propone inoltre una serie di snack. Lo snack non va sottovalutato perché è un prodotto che distrae, diverte l'uccellino in gabbia perché può andare sullo stick e scegliersi tutti i diversi semini come farebbe nel suo ambiente naturale. Inoltre sono tutti vitaminizzati e quindi assumere delle importanti sostanze per il suo benessere. Io come medico veterinario vi consiglio sempre di fornire un'alimentazione di alta qualità ai vostri uccellini. Vitacraft propone un vasto assortimento di oltre 200 prodotti tra alimenti base e snack. È importantissimo fornire un alimento specifico alla tipologia del vostro uccellino. Questo per garantire una vita sana e lunga. Da Vitacraft è tutto, alla prossima puntata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!